amiche amici bianconeri volgere di martedì 21 febbraio e allora come vi avevo preannunciato sulla community per impegni di lavoro difficilmente sarei potuto essere con voi fatto salvo in tarda serata eccomi qui per commentare un contenuto relativo a massara e a vlawich quindi su massara e su vlawich prima di svilupparlo però come sempre vi invito a scaricare l'applicazione one football di cui vi lascio qui sotto in descrizione il link per favorirvi lo scarico un'applicazione leggera gratuita che trovate disponibile sia sul play store che sull'apple store a secondo se abbiate dispositivi android o apple che vi consiglio caldamente di avere sempre con voi nel vostro smartphone possibilmente proprio per essere costantemente aggiornati su tutti i contenuti che ruotano intorno al mondo del calcio ma nello specifico selezionando perché vi dà la possibilità di selezionare la vostra scuola del cuore selezionandola anche su tutte le notizie che vanno a riguardarla tra l'altro con one football potrete sempre riguardarvi gli highlights di tutte le partite di serie a serie b e serie c a vostro piacimento veniamo allo sviluppo del contenuto su massara e su vlawich perché in questi giorni diversi di voi mi hanno chiesto soprattutto lumi sulle posizioni dei due elementi citati ovvero sulla possibilità di un interessamento della juventus su frederick massara e sulla possibile partenza date le voci che rimbalzano dalla spagna di dujan vlawich in fondo alla stagione allora andiamo per gradi cominciamo per su quella che è la posizione del direttore sportivo premesso che continuo a ribadirvi che in questo momento qualsiasi informazione attinente il calcio mercato è di difficile interpretazione e lo è anche per le mie fonti perché non vi nego che qualche sondaggino per capire se è vero l'interesse del real madrid o per capire se la juventus sta cercando un altro direttore sportivo e nella fattispecie informazioni su frederick massara ho cercato di ottenerle la risposta secca chiara come d'altra parte non poteva essere e non mi sarei aspettato diverso detto francamente fra noi è che in questo momento è inutile parlare di qualsiasi tipo di obiettivo perché tanto non trappella nulla anche se è chiaro nella volontà della dirigenza ci sia quella ovviamente di implementare l'area tecnica e quindi la ricerca di un direttore sportivo che possa sostituire affiancare questo è ovviamente ancora in divenire da capire perché ovviamente dobbiamo attendere anche gli sviluppi del ricorso delle prossime sentenze sapete che in questo momento cherubini è inibito quindi non può svolgere le proprie funzioni e la juventus non può permettersi ovviamente di essere priva di un direttore sportivo anche se è stato promosso in questo momento in sostituzione di federico cherubini giovanni manna che gode dell'assoluta fiducia della società vanta anche un'ottima credibilità perché è molto bene ha fatto a livello di settore giovanile ma è evidente che la juventus una juventus vuole tornare a primeggiare a tornare protagonista probabilmente sta pensando di lavorare perché in questo momento pensare effettivamente di operare ripeto è difficile non conoscendo gli esiti dei ricorsi delle prossime eventuali sentenze però implementandola con una figura di rilievo intanto la juve lo abbiamo raccontato qualche settimana fa con francesco calvo si è mossa bene si è mossa in una direzione molto chiara quella di elementi che godano di grande rispettabilità di grande stima nell'ambiente e che possano far muovere i passi giusti alla nuova società che è andata costituendosi ovviamente parlo di dirigenza sia chiaro per quanto riguarda il nome di freddy massara l'unica cosa che posso permettermi di confermare è che è un nome che piace e che molto probabilmente uso ovviamente la possibilità che quello che io vada a raccontarvi non sia totalmente vero ma molto probabilmente è un nome fatto da massimiliano allegri perché massimiliano allegri ha un ottimo rapporto con freddy massara c'è grande stima reciproca e quindi non è escluso che massimiliano allegri che peraltro è egli stesso oggetto di valutazioni da parte della nuova dirigenza non è certo che possa essere sulla panchina la prossima zona e nonostante io tengo sempre ben presente e riporto qui sul canale che piaccia o meno vanta sempre ancora due anni di contratto a 7 milioni di euro netti a stagione più eventuali due di bonus questo ovviamente è una grande forte spada di damocle che qualora non ci fosse una clausola rescissoria unilaterale quindi da parte della juventus da poter esercitare in caso di mancati raggiungimenti di obiettivi questo non mi è dato sapere è ovvio che rescindere un contratto con massimiliano allegri di questa portata sarebbe in questo momento onestamente di difficile interpretazione difficile attuazione ma detto questo frederick massara è certamente un nome che è stato sponsorizzato che piace vanta una grande credibilità una grande esperienza e soprattutto una grande conoscenza del mercato giovanile dei talenti un po in tutto il mondo chi lo conosce ha raccontato di un direttore sportivo che vaglia centinaia e centinaia di partite di video proprio per rimanere aggiornato e attento su quelli che possono essere quei talenti in erva che possono esplodere quindi su cui andare ad investire cifre ragionevolmente basse per avere poi in casa un campione del domani venendo invece alla questione quindi su frederick massara l'interesse è in dubbio un uomo che piace sulla possibilità non è facile intanto perché ha un contratto fino al 30 giugno 2024 perché difficilmente maldini si separerebbe da frederick massara bisogna capire anche poi la situazione e l'ambiente del milan che cosa ne pensa ovviamente è chiaro che se massara fosse voglioso di fare un'esperienza probabilmente da quel lato potrebbe anche trovare una risoluzione ma siamo nel campo dell'ipotesi la juve in questo momento non è in grado di poter pianificare così facilmente operazioni di un certo rilievo il nome piace la certezza assolutamente non c'è per quanto riguarda dujan vlaovic siamo nel campo anche qui di situazioni in divenire è ovvio che una juve fuori dalle coppe una juve lontana dalla champions può avere diciamo una ripercussione anche su questi giocatori che potrebbero chiedere accessione o che comunque allettati da proposte interessanti dall'estero potrebbero anche spingere un pochino sull'acceleratore per poter essere assecondati non mi risulta in questo momento che dujan vlaovic stia male a torino abbia dei malumori abbia dei mal di pancia e voglia lasciare la juve è evidente però che la juve deve capire il proprio futuro ed una juve esclusa dalle prossime competizioni europee anche qui c'è poi da capire se l'esclusione possa essere di un anno o possa essere pluriennale potrebbe spingere questi giocatori e dujan vlaovic rientra sicuramente tra questi a lasciare torino magari non necessariamente per la volontà di farlo ma perché la juve in quel caso potrebbe essere nella condizione di avere necessità di monetizzare di sistemare il bilancio e quindi di dover sacrificare uno o forse più dei suoi big ovviamente siamo lo ripeto nel campo dell'ipotesi è chiaro la voce che rimbalza dalla spagna di un interessamento del real madrid va verificata ma sicuramente è attendibile ci sta tutta è un giocatore che probabilmente piace di meno a tanta parte della tifoseria della juventus perché è un giocatore che ha incontrato difficoltà anche fisiche nell'inserimento è un giocatore che ha trovato difficoltà anche tecniche perché è un giocatore che va servito in profondità in campo in campo aperto o comunque con delle verticalizzazioni e non un giocatore da spalle alla porta in questo ovviamente abbiamo visto tutte le difficoltà che palesa detto questo anche qui bisogna attendere di capire un po il futuro della juventus e quindi è prematuro anche confermare l'eventuale partenza di un giocatore di questa portata è chiaro che l'eventuale esclusione dalle coppe può favorirne l'uscita uno da lato giocatore due da lato della necessità di sistemare il bilancio ci sentiamo presto di termine vostra ma mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale youtube bastionate la capilla notifica e vi auguro una buona serata mettete like al contenuto ciao a tutti e forza juve